si fa inciaggio di gioco ah quasi guarda la ninja guarda la ninja appena si toccano si ferma la bomba e si torna indietro cosa appena la tocca? mangia la vita si no ma dopo eh voi dovete tirare il senato guarda che figlio fare così non è che andiamo a piano oh ammazza lui io sarò su un punto non ha fatto bene è un tempo più lato guarda sei in mezzo oh guarda guarda ecco nessuno nuova il personaggio guarda 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 Oh ragazzi, attenzione, arriva la salita, la salita! Bravo! Maffa benissimo! Oh ma come è down there? Che vuoi fare, furbo? Apriamo, apriamo! Passate! È un ponte di nuovo! Quattro! Oh, ciao! Oh, ciao! Ma no, fanno dando e basso, non torna gli vetti giù, non torna niente da! Non, non, non! Ma no, ciao! Nooo Ha bastato, potrebbe essere bastato in qualche direzione No, ha fatto, l'ha fatto Direzione inversa, cosa Vita nel giro Nooo Nooo Se tenessi già rossa E' un'altra parte Ma che rispermatoide, Dio Ahahahahah Oh, mi sono? Oh, mi sono? Oh, mi sono? Oh, ma che cazzo? Sì, non è un'altra villa, ok? Chiudi, chiudi Chiudiamo la porta Ah, ok E' il Mo Mo è tutto il mio sangue E' qui che c'è il sangue Sì dai Posso rilassare tutti i miei problemi con quella cosa Questa roba Non mai capito a che serve questo, ragazzi La bomba ha stato bloccata in la launcher Cosa? La launcher, per non far creare i nemici Solo mettere in un punto dove si creano i nemici E non si creano più le entrate, eh? Qui c'è Ma ragazzi, io ho il dispositivo di lancio del minare Ma non è la cosa di prima Ah no, attiva e difende Attiva, attiva Vabbè, perché non è giusto più qualcosa Vabbè, perché non è giusto più qualcosa? Go, go, go Eh, l'ha guardato un po' il tuo massimo Oh, quanto giro di qua Oh, quanto giro di qua Oh, quanto giro di qua F*** Dai, come sei troppo, no? Dai, stai lì, stai lì Non è giusto più Derecchio, che mi do la forza bruta Eh, lo hai guardato un po' Eh, l'ha ragione Ehm, lo vediamo io Ma non ci ha, non ci ha 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 No, non ci ha, non ci ha Non ci ha, non ci ha 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 Oh, ragazzi, da qua, da qua Guarda cosa metto io, bianco, guarda cosa Guarda cosa metto io, bianco, guarda cosa Guarda, di là, di là, di là Guarda, di là, di là Cosa che c***o? Mi potenzio? Ok, incazione tutto, incazione tutto Minica, 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 minica Minica non ha paura Vai, vai, vai Ah vabbè, dov'è? Stai già deciso, atticamente Guarda la mina che ho fatto un po' Ma quanto meno? Bene, due minuti e vento, un po' Oh, io sono stato applicato Mi sono stato una scelta, basta, poi Mi sono stato Scappato Scappato Stai, ti pare che ruanco Dai, dai, dai Oh, stasera! Non è migliorato, è una cosa! Vabbè, non è migliorato! Sì, prima! Dai, devi fare le guardate gli altri, dai! Dai, ci puoi seguire! Dai, ci puoi seguire! Dai, ci puoi seguire! Allora... Spergiato! 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 Guardate, non è più di fondo, eh? Spergiato! Si, dai, a bit the effect! Spergiato! 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 Poi, dai! Una da d'urto, e... Oh, dio, doveva trovare! Sì, è vero, è vero, è vero. Infatti l'eroe, l'eroe è epico, è un po' di risultato, è un'altra cosa, è una specialista di granate, un attivo di rapidità che non è che fa più di un anno, per farne 5 granate, un attivo di granate, ha tutta la rapidità in centro da tutte le cose. Sì, dai l'ho fatta. Grazie. Ho fatto la missione. È stata divertente, dai. Sì, dai l'ho fatta. Ho fatto la missione. Ho fatto la missione!